Abbiamo un disperato bisogno di controinformazione, di una visione alternativa delle cose, soprattutto oggi la situazione è veramente grave, io sono estremamente preoccupato, informazioni italiane non solo, diciamo tutta quella europea, salvo eccezioni, è oscenamente appiattita, i telegiornali, quasi tutti i telegiornali sono diventati inguardabili, strumenti di propaganda, che non vogliono informarci ma controllare i nostri pensieri, no? L'obiettivo principale è spingerci a non farci delle domande, perché pensare è diventare iversivo, ricordare la storia è diventato iversivo, no? Dobbiamo credere soltanto alle narrazioni, viva la Nato, viva Israele, democrazia, bene contro il male, queste altre scemenze. Io ce la sto mettendo tutta, da tempo, pubblico ogni cosa, cerco di fornirvi degli elementi, dato che alcuni social stanno subendo una vera e propria censura, io vedo che alcuni contenuti Facebook non li credisce più, ho deciso di lanciare il mio nuovo podcast su Spotify. Spero che lo possiate seguire, parleremo chiaramente di tanti argomenti, di politica estera, di guerra in Ucraina, di interessi statunitensi, del complesso militare industriale, della questione palestinese, delle menzioni israeli, di tante cose che io studio da tanti tanti anni, quindi lancio questo nuovo progetto, spero che possa interessarvi, quindi il mio nuovo podcast su Spotify. Grazie a tutti, seguitele e condividete queste informazioni.